La conclusione di un altro anno rappresenta purtroppo un fatto negativo per il futuro di un comparto produttivo di grande rilevanza per l'economia brindisina come quello energetico. Il 2023 infatti non ha fatto registrare alcun passo in avanti verso l'apertura di qualche spiraglio e nel frattempo il 2025, anno del phase out della centrale di Cerano, si avvicina inesorabilmente con le conseguenze ben note sia per i lavoratori diretti che per il complesso sistema dell'indotto che impiega centinaia e centinaia di unità. Il Governo nazionale come è noto ha convocato un tavolo per il futuro di due aree industriali importanti come Brindisi e Civitavecchia che hanno in comune proprio una centrale a carbone dell'Enel. In quella sede per Brindisi non sono emersi dati confortanti visto che non ci sono risorse pubbliche da impiegare a Brindisi e soprattutto non si sa in quale direzione andare. L'Enel infatti nel suo piano industriale non ha previsto alcun investimento significativo per sostituire il suo attuale impegno a Cerano. La realizzazione di un gruppo a turbogas, progettato e poi bloccato da Terna in quanto ritenuto non più utile al Paese, adesso non rientra più nei piani del nuovo corso di Enel, basato più che altro sulla necessità di produrre profitti e in tal modo allontanandosi dal ruolo di azienda di Stato. Ciò che Enel propone non è altro che il sostegno alla nascita di un polo logistico e l'aiuto per far nascere qualche start-up innovativa, il che va pure bene, ma non risolve il dramma occupazionale Brindisino e decreta la chiusura di tante aziende presenti nell'indotto della centrale. La Regione Puglia ha chiesto all'Enel di ripensarci e di proporre qualcosa di concreto per Brindisi mentre l'amministrazione comunale è in una posizione di attesa, probabilmente per comprendere in quale direzione muoversi. Nel frattempo però la centrale di Cerano ha già fermato la produzione energetica e questo determina ulteriori conseguenze negative per l'economia brindisina.